Le cose di Gianni Cirillo, anche l'abito che indossa la mamma Rosaria e appunto di Gianni Cirillo vedremo tra l'altro. Vi presento in pochissimi secondi Gianni Cirillo, vincitore del premio Best Collection World Fashion Festival Awards di Dubai con la collezione Almas. Le collezioni di Gianni Cirillo nascono sotto il segno delle linee, dei volumi e delle proporzioni, sono appunto fatti di stile, classe e eleganza. Le donne di Gianni Cirillo hanno una femminilità piena di grazia e di sentimenti. Lo stile di Gianni Cirillo è davvero inconfruttibile e meraviglioso. Ebbene, Gianni Cirillo è il dono della passione per il proprio lavoro, sempre ben ciselato. Lui è capace di lavorare anche 24 ore su 24. Disegni e realizza abiti per la donna, ma anche per l'uomo ormai da sei anni. Un'ultima cosa, ci ha sempre venuto a precisare che si è formato l'Accademia di Maria Mauro, presidente di Giulia del nostro reality fashion show di Emanuele Sicignano. Miglior disegno al concorso Forbici d'Oro organizzato dall'Accademia di Sartori. Signori, le ultime novità nel mondo della moda e che moda di Gianni Cirillo. Grazie.